Il partner HP in Romagna Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale Buonasera e ben ritrovati al telegiornale serale di Teleromagna come sempre molto ricco di notizie e avvenimenti, cronaca, sport, cultura ma anche tante curiosità prima però ai nostri titoli Ancora sangue sulle strade della Romagna, un 34enne ha perso la vita ieri sera con Salice schiantandosi con la propria moto contro un'auto Riduzione in schiavitù, un romeno residente a Ravenna è accusato di aver costretto una connazionale a prostituirsi tenendo sotto scacco lei il figlioletto di due anni Punture pericolose, continua ad essere alta l'attenzione da parte dell'Ausl nei confronti delle malattie potenzialmente connesse alla presenza della zanzara tigre da gennaio 28 i casi sospetti Obiettivo riqualificazione, dopo il tratto a monte della ferrovia anche il porto canale di Bellaria e Giamarina sarà profondamente ristrutturato Ubriacatura mondiale, quella per Pokemon Go, il videogioco per smartphone la febbre per gli animaletti virtuali è arrivata fin sotto l'ombrellone Mercato quasi finito, l'ora si Ravenna ha quasi completato il proprio roster all'appello manca solo una guardia americana E ben ritrovati in studio, allora cominciamo subito con una tragica notizia di Cronaca non è riuscito ad evitare l'impatto e dopo aver tamponato l'auto che lo precedeva è volato dalla moto in un campo, morendo purtroppo sul colpo questa è la tragedia accaduta ieri sera a Conselice Aveva 34 anni e viveva a Conselice, Carlo Taglioni l'uomo che ieri poco dopo le 21 si è schiantato in sella alla propria moto Yamaha R1 contro una vettura, morendo praticamente sul colpo la tragedia è accaduta sulla strada Selice, vicino a Conselice, nel Ravennate in una strada poco illuminata e già in passato scenario di incidenti stradali in base alla prima ricostruzione dei fatti, elaborata coi rilievi della polizia municipale intervenuta sul luogo dell'incidente sembra che la Fiat Punto, condotta da un 48enne si sia immessa sulla strada principale provenendo da una laterale e il centauro se la sarebbe trovata davanti senza avere il tempo di fermarsi e andando invece a tamponarla violentemente nell'impatto il 34enne è stato sbalzato in un campo mentre la moto ha proseguito la propria corsa sull'asfalto per diversi metri anche l'auto si è fermata solo dopo un centinaio di metri praticamente con il posteriore rientrato nell'abitacolo sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanze e auto con il medico a bordo ma purtroppo il centauro è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi a causa della gravità delle lesioni riportate i vigili del fuoco hanno invece provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e della strada un trentenne di predappio nel Forlivese è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in vacanza a Madonna di Campiglio il giovane stava passeggiando sulla monte Spinale insieme ad un'amica quando è stato colpito dal fenomeno atmosferico per fortuna il ragazzo se l'è cavata con ustioni non gravi portato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento ne avrà per alcuni giorni di prognosi degrado e violenza queste le componenti alla base della brutta storia che arriva da Ravenna sentiamo di cosa si tratta era arrivata in Italia dalla Romania per dare un futuro migliore al figlio di due anni il connazionale di cui si è innamorata l'ha invece costretta a prostituirsi i carabinieri di Ravenna hanno arrestato un tossico dipendente di origini rumene che dovrà rispondere di riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione e maltrattamenti aggravati in famiglia secondo le prime ricostruzioni la donna a Ravenna dei primi mesi del 2014 veniva costretta a prostituirsi nella zona della stazione oltre a ricevere clienti anziani nell'alcova ricavata nella cantina dell'abitazione in centro che condivideva con il suo guzzino oltre a dover vivere in condizioni di sporcizia e degrado la giovane veniva convinta a non denunciare la situazione sotto minaccia di ritorsioni sul figlioletto mentre prima dei rapporti sarebbe stata addirittura drogata per alimentare il vizio del gioco e del malvivente che sperperava quasi 300 euro al giorno la coppia ha anche compiuto alcuni furti e danni di alcuni esercizi commerciali ieri sera è arrivato l'arresto in flagranza il tutto poi è stato un insieme di incroci, di dati e di osservazioni che ci ha permesso ieri sera di intervenire nella flagranza e sorprendere proprio nel gesto in cui la donna dopo aver avuto una prestazione a pagamento con un cliente dare l'intera cifra della prestazione al suo guzzino in quel momento sono arrivati i carabinieri che hanno tratto in arresto l'uomo che per dissimulare ha chiesto alla donna in rumeno di dire che non la conosceva, di dire che non si erano mai visti ma ormai gli elementi erano così tanti e tali che la vicenda era del tutto chiarita Cambiamo decisamente argomento conferenza stampa all'AUSL per fare il punto sulle azioni finalizzate alla prevenzione delle malattie potenzialmente connesse alla presenza della zanzara tigre Continua ad essere alta l'attenzione da parte dell'AUSL nei confronti delle malattie potenzialmente connesse alla presenza della zanzara tigre A partire dal 1 gennaio 2016 sono stati 28 i casi sospetti segnalati ma solo 9 sono stati confermati L'Azienda USL della Romagna sta portando avanti una serie di iniziative che sono in attuazione del piano regionale sulle arbovirosi dirette a prevenire l'insorgenza nel territorio dell'azienda di focolai infettivi di malattie che possano essere trasmesse da zanzara Mi riferisco in particolare a tre malattie che sono quelle più sotto controllo che sono la chikungunya, la dengue e lo zika virus che dall'anno scorso sta determinando grosse epidemie in Sud America e che si stanno ampiamente diffondendo Sono malattie trasmesse attraverso la puntura di zanzare Zanzare che rispetto al 2015 sembrano comunque essere in diminuzione Sicuramente un numero più ridotto di zanzare lo vediamo proprio con questo sistema di ovi trappole che abbiamo distribuito nel territorio e che ci dà conferma del fatto che rispetto allo scorso anno siamo almeno il 50% in meno di uova raccolte nell'arco della media dei 5 anni invece siamo al di sotto comunque di questa media Nel riminese la situazione è sotto controllo I comuni più importanti, sia Rimini, Chiriccione tutti i comuni della costa hanno investito hanno dato in carico delle ditte specializzate che stanno facendo il trattamento con un impegno molto importante L'Assemblea dei Soci di Air Romagna la società che dovrebbe gestire l'aeroporto Ridolfi di Forlì prevista per martedì prossimo è stata ufficialmente annullata c'era attesa per questo appuntamento che avrebbe potuto modificare la compagine societaria allo scopo di dare una svolta alla situazione ormai sembrano chiare le difficoltà dell'imprenditore americano Robert Halcomb che pare intenzionato a cedere la concessione rientrando delle spese sostenute lo scalo, lo ricordiamo, dopo il bando Enac è chiuso da circa due anni I principali produttori di imbarcazioni e aziende nautiche del nostro paese tra questi anche la Ferretti Group che ha un cantiere anche a Forlì escono da Confindustria per motivi che riconducono alla mancanza di attenzione e di servizi per il comparto nautico da parte della Confederazione dal coordinamento nazionale e filea CGL confermano di aver preso atto dell'uscita del gruppo ma si auspicano che vengano confermate le relazioni sindacali che ci sono state sino ad ora oltre al mantenimento della contrattazione nazionale attualmente applicata Continuiamo a parlare di economia la regione Emilia Romagna ha presentato i primi risultati della legge 14 del 2014 che mirava ad attirare gli investimenti sul nostro territorio i numeri sono positivi Sono 17 le aziende e i grandi gruppi industriali che sono pronti a corposi investimenti sul territorio regionale dopo la legge varata nel 2014 sono circa 611 milioni di euro sul piatto che porteranno a circa 1200 nuovi posti di lavoro Numeri positivi anche se i maggiori progetti riguardano il territorio emiliano Con 67 milioni di richieste di contributo pubblico si sviluppa un investimento complessivo di più di 611 milioni vuol dire che c'è un moltiplicatore da 1 a 10 Importante anche che sono investimenti sulla ricerca noi siamo una regione che può competere se continua a rimanere sui punti alti delle produzioni Importante che si sviluppino progetti di ricerca sulle nostre parti di eccellenza quindi certo la motoristica ma c'è l'agroalimentare c'è l'ICT e quindi diciamo quei settori dove maggiore è l'importanza delle nostre imprese Sono arrivati 17 progetti 25 milioni di euro in 3 anni per finanziare le leggi sull'attrattività 17 grandissime imprese quasi tutte multinazionali che o arrivano per la prima volta in Emilia Romagna oppure ampliano qui investimenti che avrebbero potuto fare in altre parti d'Europa o del mondo queste garantiranno oltre 1600 posti nuovi di lavoro e credo che questa sia dimostrazione di una regione che sta combattendo davvero per diminuire la disoccupazione e portare lavoro di qualità Il futuro del porto canale di Bellarie Igea Marina è segnato da una profonda opera di riqualificazione se ne ha parlato ieri sera ad un incontro al Pallacongressi dove è stato illustrato il progetto vediamo Parola d'ordine e riqualificazione Bellaria Igea Marina mette il turbo e dopo il tratto a monte della ferrovia anche quello a mare compresa l'area Exchiar di Luna sarà interessato da una profonda opera di ristrutturazione procedono al momento a buon ritmo i lavori che interessano tutta la via Uso via dei Saraceni e via Romea un'opera che intende collegare in un unico percorso ciclabile il centro di Bellaria a Igea Marina un intervento che ha comportato la messa in sicurezza del fiume con innalzamento del muretto che corre lungo via Uso e realizzazione di annesso parapetto circa 550 metri di nuovo arredo è stato realizzato poi nel contesto degli stessi lavori anche un tratto di fogne bianche prima assente lungo via Uso all'altezza del Pallacongressi ma i lavori di riqualificazione dell'area continueranno nella parte a mare della ferrovia l'obiettivo è quello di cambiare il volto del porto canale rendendolo più accattivante e più funzionale noi vogliamo mettere insieme la possibilità di abbellire il nostro paese preservando, tutelando chi lavora nella pesca è un fiume il nostro che vogliamo farlo vivere dalla statale fino al mare pian piano sono interventi impegnativi con grosse risorse economiche c'è una sorta di filo conduttore che ci conduce da monte a valle creato con questa sequenza di terrazze che sono degli spazi che fronteggiano degli edifici che hanno già attività diciamo di ristorazione e di bar già sul lungo canale e in qualche modo rivitalizzano tutta la camminata tutta la passeggiata rendendola funzionale ci spostiamo ora a Cesena ancora in calo la popolazione diminuiscono anche gli stranieri mentre il numero dei matrimoni celebrati rimane stabile sentiamo il servizio popolazione ancora in calo a Cesena nel 2016 nonostante aumentino i nuovi nati secondo il dossier dell'ufficio statistica del comune malatestiano a fine giugno si registrano 96.583 residenti il 52% donne 175 in meno rispetto al 31 dicembre 2015 ormai da molti anni i deceduti superano i nati ma alla base del trend ci sono anche le numerose cancellazioni anagrafiche degli irreperibili sono 358 i bimbi nati nei primi sei mesi dell'anno di cui 56 stranieri ma in generale anche il numero di stranieri è diminuito arrivando a contare 8.938 unità tra i motivi i 200 riconoscimenti di cittadinanza italiana più della metà degli stranieri a Cesena è di origine europea il 35% di loro fa parte dell'UE mentre un altro 23% è originario di altri paesi dell'Europa consistente anche la rappresentanza proveniente dall'Africa che rappresenta il 29% del totale la nazionalità più presente è quella rumena con 1.526 residenti seguita da quella albanese 1.017 cittadini e da quella marocchina 819 residenti quanto ai nuclei familiari si conferma anche nel 2016 la tendenza alla diminuzione del numero medio dei componenti sceso a 2,29 persone per famiglia sono stati infine 110 matrimoni celebrati nel primo semestre con un leggero incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in tutto il mondo esplosa la febbre del pokemon go il videogioco per smartphone che ha battuto tutti i record di diffusione una moda che è arrivata fino a sotto l'ombrellone un'ubriacatura di scala mondiale così si può definire la febbre da pokemon go il gioco per smartphone che a pochi giorni dall'uscita ha già raggiunto il numero di giocatori attivi più alto della storia il videogioco che attraverso la geolocalizzazione consente all'utente di vagare per le strade della città in cerca dei piccoli animaletti da combattimento ha raggiunto anche gli ombreloni di riccione riusciranno le vacanze al mare a diminuire le ore passate con il telefono in mano vabbè adesso che sono qui in vacanza a poco una mezz'oretta un'oretta al giorno no no dipendenti no lui è un po' se lui è un po' se ma secondo te perché è diventato una moda eh ma perché giocavamo tutti da bambini a pokemon era un sogno che volevi realizzare quando era piccolo adesso sembra più vero di un videogioco vi medesimate con i ricercatori di pokemon si anch'io si si per esempio io non andavo molto spesso al centro adesso c'è ando più spesso e si incontra anche più gente e quindi quando cammino ora ho qualcosa da fare diciamo lo apro cammino quando vibra lo metto in tasca quando vibra catturo i pokemon tipo vicino ai fiumi o al lago di Como si sa che ci sono quelli d'acqua quindi si prova ad andare lì quindi vai o in macchina meno di 20 all'ora che ti dà i passi e non è pericoloso in macchina eh si devi fare il copilota quello che guida deve stare attenti un consiglio che daresti ai giocatori di pokemon eh non giocateci tanto o andate in bicicletta che ne beccate tanto di pokemon andate a riscione che ci sono quelli d'acqua la sedicesima edizione del premio pascoli di poesia ha emesso i suoi verdetti due gli autori vincitori tra oltre 90 opere in gara vediamo 91 opere presentate 65 in lingua 26 opera prima in rappresentanza delle principali case editrici italiane la sedicesima edizione del premio pascoli di poesia volge al termine ed emette i suoi verdetti prevista a casa pascoli sabato 30 luglio la serata di premiazione i vincitori di quest'anno sono come sempre due uno per quanto riguarda l'opera prima in lingua italiana l'opera prima in lingua italiana e uno per quanto riguarda l'opera in lingua italiana sono una poeta è un poeta una è Mariangela Gualtieri è una poeta delle nostre terre molto conosciuta fondatrice con il suo compagno Cesare Ronconi del teatro della Valdocca di Cesena che è un teatro però con dimensioni sicuramente nazionali e internazionali e l'altro è un giovane Stefano Casacca che è al suo esordio e viene premiato appunto con quest'opera prima i titoli di entrambe le opere riportano il termine parole Mariangela Gualtieri vince con le giovani parole che è edito dalla collana bianca di Einaudi è una delle più prestigiosi collane di poesia italiane e l'altra invece è oggi si viaggia a parole di Stefano Casacca collana poesia contemporanea di Nomos edizione il tour è più piccolo ma insomma abbastanza noto nel campo della poesia Far West a Ricciò nel ponte di Viale Dante è stato infatti trasformato in un vero e proprio set cinematografico con delle installazioni originali dopo il successo della programmazione delle prime due settimane di luglio con dieci giorni di film all'aperto e gratuiti anteprime ma anche concerti il red carpet di cinè e la street art Riccione continua ad immergersi profondamente nel cinema e lo fa attraverso delle scenografie originali da Far West sul ponte di Viale Dante gli ingredienti ci sono tutti saloon botteghe cactus e banditi per un mese intero è possibile viaggiare nel tempo e vivere l'atmosfera del classico villaggio da film western anche grazie alle moltissime serate di animazione pensate dalla musica country ai balli folk fino all'occasione di vestire i panni del perfetto cowboy o per chi preferisce dello sceriffo ma c'è chi tra le fila dell'opposizione non ha affatto apprezzato le installazioni e punta il dito contro la giunta Tosi dall'ex sindaco Imola che definisce il villaggio sceno al segretario del PD Marco Parmegiani il quale afferma che la montagna è riuscita a partorire solo un piccolo ma alquanto dispendiosissimo topolino non hanno nemmeno coperto ha dichiarato Parmegiani con teli dipinti con paesaggi western e locandine dei film quelle vergognose impalcature che abbruttiscono l'idea e l'opera un set continua il segretario del PD scollegato da ogni qualsiasi innesso logico con il proprio contesto tematico e con un costo esorbitante di 100.000 euro secondo quest'ultimo si sarebbe dovuto invitare esperti cinematografici registi o sceneggiatori del genere e far interagire le installazioni con Piazzale Roma per le proiezioni dei film western Bellaria si è svegliata quest'oggi con le note del Liscio di Moreno Conficcone e l'orchestra di Mirko Casadei noi eravamo lì con le nostre telecamere Romagna mia Romagna in fiore è su queste rive che ha preso vita la musica folkloristica che si è insinuata nel DNA di tutti i romagnoli oltrepassando anche i confini nazionali all'interno dell'evento di sistema fra le province romagnole la notte del Liscio a Bellaria ha suonato in un concerto all'alba la storica orchestra del Liscio della famiglia Casadei capitanata oggi da Mirko figlio di Raul insieme a Moreno Conficconi detto il biondo e alle 6 del mattino c'era già tanta voglia di ballare queste canzoni sono nate qui su questa spiaggia sono state scritte qui tra Bellaria e Giamarina Gatteo Mare Cesenatico Rimini Raul ma anch'io Moreno abbiamo scritto queste canzoni sempre quasi tutte guardando il nostro mare con i piedi nella sabbia quindi suonare nella sabbia con il pubblico appassionato veramente legato alla musica la nostra musica la nostra tradizione è un'emozione veramente forte devo dire che la prima cosa che ho fatto ho portato questa musica fuori dai nostri confini abbiamo fatto dei tour meravigliosi dall'Australia al Brasile al Canada e devo dire che la tradizione romagnola che nasce qui in questa zona è comunque conosciuta in tutto il mondo è una musica divertente è una musica popolare che è sempre di moda proprio perché non è mai veramente di moda con alle spalle con alle spalle il mare con di fronte le tante persone che ci hanno rivisto insomma ho avvertito veramente l'affetto e la dimostrazione di quanta la gente è legata alla nostra musica speriamo sia un inizio per proseguire per anni in questa avventura meravigliosa che è il ballo liscio e la tradizione musicale romagnola e dopo la tradizione romagnola altre notizie con le nostre brevi Riccione notte di paura in spiaggia due giovani romeni armati di pistola giocattolo hanno rapinato alcune coppiette allertati dalle vittime gli agenti della polizia di stato hanno inseguito e arrestato i due malviventi Emilia Romagna scatterà da lunedì prossimo il fermo pesca per le barche Emiliano Romagnole e sarà valido fino al 5 settembre interesserà tutte le flotte da pesca da Trieste a Rimini Rimini un parrucchiere di origini napoletane ma residente in Riviera è stato fermato dalla squadra mobile della Questura per tre rapine ai danni di un bar una birreria e una piadineria l'uomo agiva armato di cutter Cervia alla festa della Lega Nord Romagna in programma dal 29 luglio saranno molti i big del carroccio annunciata la presenza di Matteo Salvini Umberto Bossi e Roberto Maroni La linea ora passa da Andrea Zanzi per gli ultimi aggiornamenti di Sport Benvenuti al TG Sport l'organico dell'orassi Ravenna è ormai fatto per completare il roster ora manca solo una guardia americana che verrà selezionata nei prossimi giorni il servizio manca davvero poco alla definizione completa del roster dell'orassi Ravenna anche se quel poco non è questione di poco conto ovvero sia l'ingaggio di una guardia americana che sappia raccogliere l'eredità di Michael Dilosch se ne parlerà solo nei primi giorni di agosto fanno sapere da viale della lirica intanto però l'organico è stato completato per nove decimi e così dopo i recenti innesti dei giovani sabatini sgorbati e crusca ieri è arrivata anche la tanto attesa conferma di Taylor Smith il centrone americano reduce da una stagione da autentico califo per la categoria con 14 punti 8,4 rimbalzi e 2,5 stoppate di media a dargli manforte sotto le plance ci penserà anche Alberto Chiumenti passato dall'essere una bandiera di Casal Pusterlengo a uomini più del settore lunghi giallorosso arrivo qui con grande entusiasmo con grande voglia di fare e soprattutto con una marea di motivazioni io sono stato sei anni in un posto dove sicuramente lo sento come casa mia però è arrivato il momento di cambiare di trovare nuovi stimoli una Ravenna che si candida ad essere la sorpresa del girone di ferro della 2 basterà tutto questo? intanto i Tigers si candidano ad essere una delle principali candidate al salto di categoria dalla serie B la campagna acquisti dei forlivesi procede a tappe spedite per quanto riguarda anche gli innesti dei giovani Joel Myers Francesco Forti e Matteo Ghirelli anche se l'autentico pezzo da 90 i forlivesi l'hanno portato a casa dai cugini della palla canestro 2.015 si tratta di Rodolfo Rombaldoni per anni colonna della nazionale azzurra nella passata stagione uno degli artefici della promozione in a2 raggiunta dalla squadra allenata da Gigi Garelli per quanto riguarda invece la Superbike dopo una prima parte di stagione più che positiva Lorenzo Savadori si sta concedendo un periodo di relax il centauro Cesenate tornerà in azione a settembre per affrontare il Gran Premio di Germania sicuramente è stato un weekend abbastanza positivo Laguna Seca era una pista nuova per me non avevo mai girato è una pista molto impegnativa perché ci sono cambi di pendenza repentini però sicuramente è stato un weekend positivo dobbiamo cercare ancora di migliorare però gara 1 siamo arrivati a meno di un secondo a un secondo dal podio e quindi sicuramente è stato positivo penso di fare chissà cosa sicuramente starò qui in zona e in più dobbiamo cercare anche di allenarci perché comunque il campionato è ancora lungo e anche se abbiamo molta pausa comunque dobbiamo farci trovare pronti a rientro da riferimento se una pista non ci hai mai girato cerchi di impararlo il più possibile alla Playstation e poi dopo molto diciamo che la differenza la fai quando arrivi in circuito e inizi a parlare con i tuoi tecnici e ingegneri che sono già stati in quella pista lì inizi un po' a farti la tua idea del tracciato parliamo di tennis adesso niente da fare per Sara e Rani l'esperienza all'Eriksson Open di Bstad si è interrotta ai quarti di finale dove l'Azzurra ha dovuto cedere il passo a Caterina Signacova numero 92 del ranking mondiale che era sbarcata sul tabellone principale vincendo le qualificazioni a spaccare a metà la partita è stato il tie break del primo set con Sara costretta alla capitolazione sul 7 a 2 un parziale che spostava l'inerzia dell'incontro tutta dalla parte della cieca che nel secondo set archiviava la pratica chiudendo il match sul 6 a 3 e con questo è tutto per quanto concerne anche questa edizione della TG Sport potete comunque avere ulteriori informazioni sportive sul canale 192 di Teleromagna Sport o visitando il sito teleromagna24.it vi ringrazio allora per averci seguito arrivederci è arrivato il momento di sentire insieme le previsioni del tempo buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini la giornata di oggi che ha aperto il weekend ha visto maggiore nuvolosità rispetto alle previsioni questa causa delle correnti più fresche giunte in quota che hanno provocato appunto più nuvolosità del previsto fin dal mattino con qualche piovasco sparso inizialmente in Emilia poi anche su parte della Romagna anche la giornata di domenica sarà contraddistinta dalla nuvolosità fin dal mattino avremo nuvolosità sparsa più compatta a ridosso dell'Appennino con qualche rovescio già nelle prime ore del mattino soprattutto su bassa Romagna e sul crinale emiliano poi nel pomeriggio la nuvolosità sarà sparsa su pianure coste mentre qualche rovescio a tratti anche temporalesco si formerà sull'Appennino emiliano e localmente potrà giungere successivamente sulle pianure le temperature vedranno un leggero calo nei valori massimi saranno generalmente compresi tra più 27 e più 32 gradi mentre i valori minimi saranno sempre compresi tra più 19 e più 24 gradi ventilazione debole con locali rinforzi soprattutto in caso di temporale il mare sarà quasi calmo poi anche la nuova settimana inizierà con l'instabilità pomeridiana protagonista soprattutto a ridosso dell'Appennino per ora è tutto buona serata ad Andrea Raggini prima dei saluti rivediamo insieme le principali notizie del giorno ancora sangue sulle strade della Romagna un 34enne ha perso la vita ieri sera con Salice schiantandosi con la propria moto contro un'auto riduzione in schiavitù un romeno residente a Ravenna è accusato di aver costretto una connazionale a prostituirsi tenendo sotto scacco lei il figlioletto di due anni punture pericolose continua ad essere alta l'attenzione da parte dell'Ausl nei confronti delle malattie potenzialmente connesse alla presenza della zanzara tigre da gennaio 28 i casi sospetti obiettivo riqualificazione dopo il tratto a monte della ferrovia anche il porto canale di Bellaria e Giamarina sarà profondamente ristrutturato ubriacatura mondiale quella per Pokemon Go il videogioco per smartphone la febbre per gli animaletti virtuali è arrivata fin sotto l'ombrellone mercato quasi finito l'orasi Ravenna ha quasi completato il proprio roster all'appello manca solo una guardia americana vi ricordo questa sera sul canale 14 di Teleromagna alle 21 e 5 circa vi aspetta Luciano Poggi con la diretta delle corse dall'ipodromo del Savio di Cesena ed è veramente tutto per quanto riguarda questa nostra edizione serale del telegiornale vi ricordo i principali appuntamenti con le informazioni alle 14 alle 19 le 20 e 30 per tutte le news aggiornate il portale teleromagna24.it grazie per l'attenzione arrivederci SIC società italtecnica Cesena da 30 anni specializzate in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati se voi avete un problema noi abbiamo la soluzione SIC e a Cesena in via Olivetti 85 zona industriale Pieve Sestina Infotec il partner HP in Romagna di SIC di SIC di SIC di SIC di SIC Grazie.